Ciao amici, buon sabato come tutti i sabati il video di questo pattacca romagnolo che ci mette sempre e comunque questa maledetta faccia perché questa faccia? Perché aiuta quelli che vogliono venire a noleggiare, a comprare un camper a prendere degli accessori, hanno questa faccia questa faccia la vedete che molti non la mettono perché? perché devono stare nascosti, invece io ci metto sempre la faccia quindi quando uno ci mette la faccia molte molte volte dentro è pulito dentro è pulito e non ha niente da nascondere spero stiate tutti bene, oggi volevo parlare del noleggio camper il noleggio camper, questo fantastico modo di provare la vita in camper la vita in camper è una vita bellissima, è una vita che ti porta a avere un contatto con la natura incredibile è una vita che ti porta a avere un'avventura di imprevisti imprevisti perché nel camper ci possono essere tanti imprevisti il frigorifero che non funziona, il gas che non va, l'acqua che non viene ma fa parte di questa fantastica filosofia di vita perché io dico sempre non è per tutti la vita in camper la vita in camper è per quelli che vogliono provare e se gli piace vanno avanti e si organizzano per affrontare i vari problemi o le varie gioie o le varie cose belle che ti può dare il camper però il camper non è un gioco, dico sempre il camper è un mezzo complesso che lo devi conoscere bene ecco perché se voi noleggiate da noi noleggiatori non dico al 100% ma all'85-90% grossi problemi non ne avete però anche con noi potete avere dei problemi la luce che non va, il frigorifero che funzionava quando siete partiti e poi è smesso di funzionare l'elettronica è incredibile, è maledetta adesso va, fra due minuti non va più quindi pensate che anche da noi può succedere l'imprevisto ma quello che mi spaventa di più è che è appena andato via un cliente adesso che ha noleggiato con quelle piattaforme di noleggio camper tra privati una passia, una passia questi due poveri signori gli hanno dato il camper un camper del 2001 senza climatizzatore e questi venivano dall'argentina hanno noleggiato perché queste piattaforme hanno una forza pubblicitaria incredibile quindi sono conosciute in tutto il mondo allora tutti questi privati che hanno i camper li mettono su queste piattaforme loro non ci rimettono niente quelli delle piattaforme e la bega è tutta su chi mette il camper nella piattaforma ho fatto un po' di casino però diciamo che è un po' come affittare la propria casa a dei turisti però un conto è una casa e un conto è un camper infatti lo diciamo sempre perché un camper ha molte più cose da controllare esatto quindi come fai a noleggiare un camper del 2001 del 2005 ma camper di 25-20 anni pubblicizzano su questa piattaforma potete mettere a noleggio potete mettere a reddito il camper vostro anche se ha 25 anni ma vi rendete conto che suicidio che è sia per chi lo dà a noleggio sia per chi ci va via a noleggio ma come può andar bene un camper così adattato chi è che l'ha controllato sto camper ho visto sempre su queste piattaforme c'era questa signora che noleggiava sto camper vecchio Antonella si chiamava i clienti hanno scritto la recensione Antonella è sempre stata molto disponibile a risponderci ma non ci ha risolti i problemi ma per forza Antonella sarà buona a fare le tagliatelle o fare il sugo fare il letto ma lei riesce a aiutarti quando sei in giro a noleggio con quel cavolo di camper del 2001 non ce la faccio io che do dei camper che hanno 6 mesi di vita il più delle volte e bisogna andare all'assistenza autorizzata e bisogna andare all'assistenza autorizzata bisogna affidarsi a chi sa fare chiami Antonella poverina nonostante facciamo sempre un check up prima della partenza le gomme lo stato di usura delle gomme il privato fa tutti questi controlli punto di domanda allora per risparmiare cosa questo camper qua del 2001 senza climatizzatore noleggiato da Antonella su queste piattaforme fantastiche noleggio tra privati di camper è il business ma te prima non lo puoi fare perché non hai un'attività di noleggio senza conducente quindi non si può fare loro dicono che è tutto regolare va benissimo ci sarà qualcuno che andrà a controllare queste cose qua perché allora noi cosa ci stiamo a fare qua i coglioni scusate la parola ho un'attività ho una licenza ho un codice a teco ho tutto io devo stare tutto in regola tutto quanto dare dei camper con assicurazioni il top di gamma casco incendi e furto appropriazione in debit di tutto di più e questi si mettono su possono noleggiare dei camper di 25 30 anni senza licenza prendere i soldi senza fare fatture ma è passia io sono incassato su queste cose qui più che altro perché sono venuti diversi clienti piuttosto amareggiati amareggiati ma per forza quindi l'assistente ha noleggiato questo camper di privati e che erano in un momento di difficoltà quindi lasciate perdere anche perché questa signora Antonella lo sapete quanto noleggiava il camper perché ci deve mangiare la piattaforma ci deve mangiare Antonella le pulizie le pulizie le pulizie finali 110 euro un camper di 25 anni che poi non 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 voglio pensare come è tenuto perché la maggior parte dei camper sono tenuti sporchi e qui lo dico qui lo dico la maggior parte dei camper li tenete sporchi sporchi te lo ridico sporchi un'altra volta non è il modo di tenere un camper quello è un ambiente troppo piccolo i germi le muffe le pusse oggi sono arrabbiato quindi pulizie finale di questo camper di Antonella 110 euro primo per iniziare costo giornaliero di questo camper a noleggio sulle piattaforme tra privati 130 euro al giorno ma vi rendete conto? ah però non vado da Alessandro a noleggiare perché costa di più da Alessandro le pulizie finali da Alessandro se glielo riporto pulito non le pago neanche ma pensa che coglione che Alessandro paga una licenza del noleggio e loro là no non pagano niente paga delle assicurazioni paga un affitto di un capannone per tenere sti cavolo di camper no? vi rendete conto? pensateci quando portate la vostra famiglia su uno di questi camper folli di noleggio tra privati giate da aziende serie che ci mettono sempre la faccia e che sono veramente serie ma diciamo questo che tramite un'azienda avete delle persone che hanno un'esperienza per esempio voi di oltre 30 anni quindi non è come un privato che nonostante magari sia esperto si sia informato non lo fa di mestiere quindi non lavora tutti i giorni su 10 15 mezzi al giorno quindi c'è proprio una differenza sostanziale di esperienza esatto e come chi opera chi opera una volta all'anno non potrà mai avere l'esperienza di un chirurgo che tutti i giorni opera capite questo piccolo ma è un esempio semplice che riuscite a capirlo tutti è la pratica che fa la differenza purtroppo è la pratica che fa la differenza quando io faccio sempre questo lavoro come ha detto Federica io ho un'esperienza che è molto più di te che ti avvicini per una volta due tre o che sei un privato che lo fai come hobby esatto un privato ha un altro lavoro quindi non potrà mai avere un'esperienza di uno che lo fa totalmente tutti i giorni per otto ore al giorno esatto quindi noleggiate camper noleggiate camper da chi volete fate quello che volete ma pensateci che se dopo vi succede l'imprevisto lasciate con Antonella c'è solo Antonella che è lì mentre fa le tagliatelle vi risponde dimmi non mi va la batteria ah poverino non lo so cosa è successo devi andare da un elettroauto e ti arrangi e questo risponde Antonella cosa ti può dire Antonella poverina che ti ha dato un camper che ha 21 anni quindi avete capito il noleggio va fatto da aziende serie certificate che è quello il suo lavoro i camper sono complessi è una macchina mio zio diceva sempre il camper la macchina è un'arma è vero è un'arma dobbiamo pensare a chi abbiamo a cosa abbiamo nelle mani un'altra cosa che mi dà un fastidio incredibile e oggi lo dico sfoghi quando venite a vedere i camper o andate via col camper non fate montare quel cavolo di bambini alla guida che li vedete che muovono e il cambio e il freno e il co non vanno messi alla guida i bambini perché mettete il caso che lasciate il camper in una discesa o la macchina vostra i bambini vanno guardati non vanno lasciati al posto di guida come se fosse un gioco anche quando purtroppo vengono a vedere il camper capita spesso che fanno andare il bambino davanti alla guida alla guida io mi arrabbio un po' mi arrabbio nel senso li lasciano lì a giocare come se è alla playstation è un giocattolo ma a parte che mi puoi spaccare le leve del tergicristallo delle frecce tutta plastica ma va date delle regole sti figli io alle mie figli gli ho dato delle regole delle cavolo di regole che non ci sono più perché sennò non c'è più rispetto in niente e pensiamoci bene non vogliamo parlare sempre di disgrazie però prevenire è meglio che curare oggi il noleggio camper è l'unico modo per provare questa bellissima fantastica vita all'aria aperta in libertà oggi più di ieri la gente si è avvicinata ai camper tornerà alla normalità perché questi due anni ha portato un boom di noleggio di vendita camper sta già rallentando sta già tornando molto alla normalità come giusto che sia quindi camper house di rimini oggi vi ha espresso questo suo umile cancellato il video non guardatelo se vi ho dato fastidio a dire queste cose ma i camper vanno tenuti puliti vanno noleggiati da noleggiati sto parlando non comprati da aziende serie certificate tre i vostri figli teneteli come vanno tenuti in sicurezza la macchina il camper la moto che sia è un'arma e vanno gestiti da adulti i bambini non si mettono alla guida perché noi dobbiamo fare i cavoli nostri li butti lì per passatempo ci sono le cinture li leghi questo è un camper che potete noleggiare elisgo 22 letto grandissimo bagno molto grande guardate che doccia quindi basta che ci mandate una mail a info camperhouse punto com ci dite in quanti siete e vi facciamo la nostra offerta migliore allora pensate che il prezzo medio di un noleggio camper si aggira sui 140 euro molti dicono sono troppi ti do un camper che costa 50.000 euro cosa sono troppi fai la tua vacanza non pensi a niente mezzi nuovi controllati sempre puliti e igienizzati soprattutto ah Antonella quella della piattaforma vuole 30 euro in più per igienizzare il camper capito no lo pulisce l'igienizzazione costa 30 euro in più ma vi rendete conto che presa per i fondelli queste piattaforme di noleggio tra privati si puoi mettere il tuo camper a reddito ma te sei fuori te lo dico io il reddito tiralo fuori andando a lavorare come si deve non così questo non è un reddito sano te lo dico con tutto il cuore venite a noleggiare la camper house vi aspettiamo Ale vi aspetta grazie scusate del mio sfogo scusate del mio sfogo ma io le cose che ho dentro me le devo tirare fuori e sono fatto così e ve lo dico con occhi negli occhi occhi negli occhi via scrivete sei un pazzo sei fuori di testa ma non capisci un cavolo è lo stesso vi voglio bene ciao ciao amici ciao ciao ciao